L'entrazione al massimo dello split Braccio sinistro, mano sinistra Questo movimento L'entrazione del corso, il miglioro è la sua alto Controllo Il suo gomito Se ho la presa fondamentale Questo deve subitare in avanti E il vostro gomito Deve cercare di andare a infilarsi sotto la sua scena Non deve uscire altamente Tutte e due le braccia però Dovrò portare il piede di un che Sulla sua gamba destra Non tirarlo addosso Ma avanti destro Avanti destro per un che Tutte e due vanno da questa parte Non dovete andare da una parte con la sinistra E dall'altra con la destra Ma tutti e due nella stessa direzione Se fate la presa alta Dietro la testa È possibile utilizzare anche Questo squilibrio La sinistra non apre Ma va a chiudere al fianco il suo punto Il destro Il destro Gira dietro al suo punto La posizione della mano non è così Così va bene per Tirare in avanti verso il basso La posizione del polso deve Lavorare come se facessi Ocule rigide Però la direzione del polso Deve essere avanti destro Perciò chiudo che Chiudo che Portando sempre il suo peso Su questa gamba Ok Presa fondamentale Sinistro apre Presa alta Il sinistro Il sinistro Può anche chiudere qui L'importante è Questo pugno Non deve essere appoggiato Sulla sua spalla Ma deve lavorare In questo senso Prego Mi passate male La posizione di Viene in estero Quando ho fatto Al centro Dal centro Verso il suo piede Non è molto importante L'importante Non è piantare il tallone Ma Piantare i piedi Per girarti poi sopra Ok Il piede d'appoggio Invece deve Questa riga è il centro Il piede d'appoggio Deve essere Al di qua Ok Il limite minimo È la riga centrale Il piede d'appoggio Se sta da quest'altra parte Va bene Se invece si avvicina Il suo piede destro Non va bene Non va bene Perché se si avvicina A questo piede qui Tutto il mio peso Sarà una parte Perciò Quando girate Il piede destro Deve essere in posizione Di poter mantenere il pugilio Ok E controllare il suo piede Tutto su questa mano Allora adesso Pire destro Squilibrio Non fate in fretta Adesso non serve Cos usci Sucuri E capito Sucuri Nве 2 2 5 3 5 6 Grazie a tutti.